Andrea Masi, quasi finita questa prima parte di Raduno in vista delle prime due giornate alle senazioni contro la Francia e contro la Scozia. Come sta la squadra e quali sono gli obiettivi tuoi personali per questo torneo che sta per iniziare e di questo gruppo? La squadra penso che stia abbastanza bene, stiamo lavorando bene, con serenità. E niente, incontriamo una squadra che è in forma in questo momento, siamo consapevoli di questo, però non siamo spaventati. Sappiamo che sarà una partita durissima, però vogliamo continuare sulle basi dei test match di novembre, per cui cercheremo di essere ambiziosi come nelle ultime partite. Senti, la domanda è sempre la stessa, McLean, Abuso, Masi, chi gioca estremo e Andrea Masi dove trova spazio? Ma non lo so chi giocherà estremo, per me, come ho già detto tante volte, l'importante è trovare spazio e continuare a divertirmi. Però a Londra è evidente che stai giocando centro, quindi forse anche un pensierino qua in nazionale lo stai facendo, hai parlato con il CT di questo? No, non ho ancora parlato con Jack di questo, sì, è vero sto giocando centro a Londra, mi sto divertendo in quel posto, in quel ruolo lì, però, insomma, come ho già detto, non è importante. Grazie. Grazie. Grazie a tutti.